salve a tutti lettori di android blog.it oggi stiamo provando la videocamera da 13 megapixel del iocene x7 elite che ci è giunto in redazione come potete vedere la resa video è abbastanza buona il video che stiamo girando ovviamente in risoluzione full hd e come potete vedere il dispositivo è dotato di messa a fuoco automatica durante la registrazione proviamo subito un pan veloce del dispositivo per vedere come si adatta è un contro luce che è abbastanza abbastanza buono vediamo anche la possibilità di zoomare durante la registrazione con uno zoom fino a scusate siamo tornati indietro adesso con uno zoom fino a 4 per che risulta veramente scadente grazie